Al San Marco di Pescara sembra estate inoltrata, 29 gradi ed infuocare un derby, già di per sé infuocato il Delfino Flacco Porto e Angolana, si sfidano per il dodicesimo turno di eccellenza agli ordini del direttore di gara di caro della sezione di Chieti. Bonati si affida alle forze fresche, Rosini è planamente dal primo minuto, relega inizialmente in panchina Emma Farias, ritmi non altissimi, ad inizio gara complice il gran caldo, Gobbo e Di Giovanni ci provano mentre i portuali iniziano ad ingranare intorno al quarto d'ora, Silvestri dal limite, Parapuddu a terra. Al venticinquesimo passa il Delfino, gran lavoro di planamente sulla sinistra, cross al bacio per Rosini che deve soltanto spingere in rete per l'1-0, secondo centro consecutivo per l'ex Penne. Tre minuti dopo tripla, grande occasione per il raddoppio, prima Marzucco ancora per Rosini che sbaglia da pochi passi, poi Veno del classe 99 a liberare planamente, tiro secco ribattuto da Apuddu che deve fare gli estremis anche per rispondere a Rosini, ancora un miracolo della classe 2003, nel finire di tempo occasione per planamente, sinistro a cui l'estremo ospite risponde con i piedi, nella ripresa tutt'altra angolana, le occasioni se ne vedono poco ma il piglio è decisamente diverso. Al ventitresimo cross di Direnzo per Farias che con il piattone spaventa amoroso, poi al ventiseiesimo cross fotocopia sempre per il sudamericano che questa volta non sbaglia e fa 1-1. Al ventinovesimo recriminano i portuali, Falco si invola verso la porta, Mongelli ravvisa però una posizione di offside, sembra poter succedere di tutto, Tine Mori ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi maemiani all'ottantottesimo a trovare il colpo di testa vincente dal cross dalla destra di Pantoni ed è 1-2. Nel finale l'esterno classe 2001 impensierisce amoroso ma termina così, 3 punti d'oro per l'angolana, un delfino troppo sciupone. Allora mister, primo un commento sulla partita, un primo tempo giocato davvero bene, avete trovato il gol del vantaggio, avete sfiorato in più riprese quello che era il possibile gol del raddoppio, poi nel secondo tempo avete comunque cercato di amministrare e poi non so, magari è venuta fuori anche la qualità dell'angolana. Abbiamo vinto il primo tempo e abbiamo perso la partita, perché se tu arrivi 20 volte davanti alla porta poi la colpa è solo nostra. È un primo tempo eccezionale dove fai un gol, poi l'angolana ha qualità e nel secondo tempo la squadra ha giocato come doveva giocare. L'angolana è salita con i cambi, con la qualità, noi abbiamo abbassato la nostra qualità con le sostituzioni come ci succede spesso, non abbiamo avuto le risposte giuste dalla panchina, ma perché le altre squadre hanno un organico diverso. Quello che abbiamo fatto il primo tempo è eccezionale, non ce lo toglierà nessuno e adesso costruiremo su quello che stiamo facendo. Poi avete avuto qualche battibecco nel finale con il direttore di gara, è successo qualcosa? Non è successo niente, è successo che per il delfino angolana è stato disegnato un arbitro degli alliei provinciali, quindi è chiaro che la partita è stata considerata di questo valore, e poi sbandierano fuori giochi che sono incredibili, ma a livello degli arbitri, alcuni arbitri è veramente da rivedere, come i nostri col mangiato in primo tempo. Siamo giunti quasi alla fine di questo mini torneo, manca per voi soltanto il match con il Lanciano all'ultima gara, si parlava che l'obiettivo del delfino era quello di crescere, continuare a farlo, siete comunque arrivati a raggiungerlo? Sì, in buona parte sì, per tante cose sì, per altre no, dobbiamo costruire e dobbiamo anche prendere coscienza che nel calcio non esiste solo l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, ma esiste anche l'aspetto della gestione delle partite, della gestione degli arbitri. È una società in questo momento morbida, una squadra troppo morbida, una squadra che si fa mettere i piedi sotto, deve tirare fuori la cattiveria perché nel calcio, ripeto, contano tutti i fattori e noi, visto che il modo nostro di fare non viene pagato in questo momento, allora è bene fare tesoro di queste cose e tirare fuori un po' di cattiveria, però la squadra su questo non lo so, ho qualche dubbio, devo dire che i ragazzi stanno crescendo su tante cose, su questo aspetto qua, anche per caratteristiche e morfologie della squadra, anche per modo di fare, temo che queste cose qua le soffriremo tanto, per cui l'unica cosa che possiamo fare è aggiungere qualità in attacco e fare più gol perché credo che sia l'unico modo per migliorare. La domenica è stata la stessa cosa con Lanciano, quindi faremo domanda per giocare direttamente il secondo tempo se è possibile. A parte gli scherzi, sì, non troviamo la motivazione per questa doppia faccia che abbiamo ultimamente, però se il risultato finale è questo facciamo finta che va bene. Quindi niente, sì, è una cosa in analisi giusta, però devo dire anche un grosso carattere dei miei perché 40 gradi il secondo tempo abbiamo giocato veramente all'arma bianca con quattro punte e abbiamo poi sfiorato anche il terzo e via dicendo, quindi è stato un crescendo importante però chiaramente adesso giocando con Chiedell'Aquila se regaliamo un tempo così non penso che ci daranno la possibilità di ribaltare il secondo tempo, quindi sappiamo dei nostri limiti però sono felice. Vincere qui sapete che non è una cosa molto semplice. Domenica scorsa ci parlava un po' di quella che era la crescita dei giovani, dei fuori quota di proprietà dell'Arenato Curiangolana, oggi abbiamo visto un ulteriore step di questa crescita. Io non sono felice, sono felicissimo. Oggi i tre migliori in campo secondo me erano i tre fuori quota più giovani, 2002, 2003, 2003, Puddu, Scurti e Lombardi il primo tempo quindi sono non felice di più perché stanno crescendo in autostima, in gestione delle emozioni della partita eccetera eccetera. Io ripeto, facciamo questi campionati soprattutto per questi ragazzi e arrivare alle ultime partite e vederli crescere a vista d'occhio io veramente sono felice. Siamo arrivati quasi al termine di questo mini torneo, mancano soltanto due giornate, turno infrasettimanale mercoledì, poi domenica c'è tempo anche per pensare a quella che è la prossima stagione? Vabbè questo lo farà la società, noi abbiamo fatto secondo me un buon mini torneo, abbiamo peccato solo qualche partita però dobbiamo dire anche che il livello di questo mini torneo è alto quindi non lo possiamo paracolare a un campionato normale. Bene, spero solo che la società non dissipi quello che abbiamo costruito perché costruire ci vuole tanto, a dissipare o a distruggere una creatura non ci vuole nulla quindi secondo me le basi ci sono però adesso la palla passerà a loro che deciderà in autonomia cosa fare. Io sono contento perché ecco abbiamo raggiunto quelli sono gli obiettivi, portare una squadra in piena capacità atletica nel finale e valorizzare i giovani, essendo anche terzi in classifica dopo che dell'Aquila davanti all'Avezzano quindi io penso che, mi sembra di sì, siamo davanti all'Avezzano. Eh sì adesso è una pista classifica, quindi questo penso che deve essere un orgoglio per noi e anche per la società.